Pronto sindaco Agnelli, sono Roberto Benigni, come sta? Il sindaco Mario Agnelli sorpreso risponde a telefono dopo aver fatto gli auguri via social a Roberto Benigni e a richiamarlo è stato proprio il premio Oscar che ha aggiunto Ho letto le sue parole su di me, gli auguri che mi ha fatto e quando lei mi ha invitato a Castiglion Fiorentino non mi poteva fare cosa più gradita So che lei è un sindaco amatissimo, ha detto Roberto Benigni, me lo dicono i miei parenti che ancora vivono nei pressi di Castiglioni Ho perso l'accento a retino, ha detto Robertaccio, perché sono andato via da piccolo, ma il dialetto castiglionese a retino è molto bello Poi la conversazione è diventata confidenziale, gli auguri che mi hai fatto sono particolarmente graditi perché vengono dal luogo che ha amato e amo di più nella vita Un abbraccio e un grazie a tutti i castiglionesi La mia famiglia proviene da Castiglion Fiorentino, lì sono nate tutte le generazioni di famiglie, di contadini, povere ma anche di grande dignità Mi hai reso felice quando hai parlato di me, grazie ancora per gli auguri, ha concluso Benigni Dopo tanto parlare, ha detto il sindaco Agnelli, non nego ora che sarebbe una bella soddisfazione rivedere Roberto Benigni per le strade di Castiglion Fiorentino